La tua posizione in campo vuol essere giocare un po' più avanti oppure va benissimo così? No, va bene, va bene. Va bene dove mi impiegherà il mister, va bene mezzare la sinistra, metterla a destra, davanti alla difesa. A me non c'è nessun problema. L'importante è che ti ripeto, mancano otto partiti alla fine. Chi gioca si deve far trovare pronto anche per tre minuti perché è molto importante rimanere in seriato. La tua posizione in campo vuol essere giocare un po' più avanti oppure va benissimo così? Sicuramente, sicuramente. Gli attaccanti sono quelli che finalizzano il gioco di un'intera squadra, perciò l'attaccante va servito in un determinato modo. Stiamo lavorando in questi giorni per far sì che da domenica possano tornare subito anche i nostri attaccanti e far sì che riprendano dove erano rimasti con la Sampdoria oppure con il Genoa.